Perchè un caffè? Perchè un caffè? Dai. Perchè un caffè? Perchè un caffè? Perchè un caffè? Grazie. Grazie, signora. Grazie, signora. Grazie, signora. Signora. Spostiamoci, sono qua. C'è una confusione. Sì. Cosa c'è? Mi ha dato il cucchiaino. Aspetta, dai, siamo con il mio. Sì. Ma come? Buono. 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 Grazie a tutti.